Con una prova di carattere e anche di tenacia, l'Ami Sadmo Volley Lavagna ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B maschile di pallavolo. Al palazzetto dello sport del Parco Tigullio Lavagna i ragazzi di mister Simone Cremisio si sono imposti sugli aggueriti avversari dello Zephyr Trading Spezia per 3-1. Priva di Colombini ad indossare la fascia del capitano è stato Alessandro Assalini che si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, realizzando 8 punti nel primo parziale e 14 in tutto a fine gara. Vittoriosa nel primo set, l'Ami Sadmo ha rallentato leggermente il ritmo nel secondo, conservando il risultato favorevole. Lo Zephyr nel terzo set è riuscito a scardinare la ricezione dei padroni di casa che si sono aggiudicati il quarto parziale complice il doppio cambio con Alessandrini e Brunengo al posto di Materno e Rossi. Da sottolineare anche l'ingresso del giovane Federico Tomà, sempre più in crescita. Siamo felici perché è stata una vittoria di squadra, perché nel momento in cui siamo andati in difficoltà sono entrati Alessandrini, Federico e Brunengo ma anche Tomà e ci hanno ritirato su in un momento in cui dovevamo un po' rifiattare. Poi alla fine ci hanno trascinato e siamo contenti, più che altro perché senza Michele non sapevamo come avremmo reagito e mi sembra che la squadra ha risposto bene. Soddisfatto della prova di carattere del gruppo Mr. Cremisio, ad inizio campionato spiegato a fine gara ci siamo imposti di conquistare la salvezza tra le mura domestiche e così gara dopo gara proveremo a fare. Sabato prossimo in calendario la trasferta a Novi Ligure che si preannuncia insidiosa, dove tuttavia la squadra lavagnese tenterà di portare a casa un risultato favorevole contro una formazione alla ricerca di punti. Il primo obiettivo del campionato è finirlo, nel senso che dato il momento siamo contentissimi di aver iniziato a giocare e sicuramente l'obiettivo nostro, visto che siamo neopromossa e siamo molto giovani, è quello di fare più punti possibili soprattutto nel primo girone, poi sicuramente la salvezza.